Magari da tempo hai deciso di affacciarti all'influencer marketing, però sei un po' dubbioso, non sai cosa fare, come scegliere un influencer. Fermo, non ti preoccupare, sei nel posto giusto, questo è il video adatto per te. Oggi vedremo insieme come scegliere l'influencer per il tuo hotel. Ciao a tutti sono Alessia, bentornati sul mio canale e benvenuto in questo nuovo video dedicato all'influencer marketing. Cercheremo di capire insieme come scegliere un influencer per la tua struttura recettiva. Ovviamente penso che ti sarà già capitato di ricevere tale tu e-mail e queste e-mail di presunti influencer, gente che a malapena si presenta e ti scrive ciao sono Tizio, io ho tot follower, se mi dai un soggiorno gratis io ti faccio pubblicità sui miei social, perché io sono un influencer. Bene, queste e-mail le abbiamo ricevute un po' tutte, io ne ho ricevute un sacco, mentre io ero dipendente negli hotel. Bene, queste sono già delle prime persone che noi dobbiamo iniziare a scartare e che di certo non vanno bene per la nostra collaborazione. Però adesso andiamo per gradi, vediamo un attimino tutto così alla fine di questo video sarete in grado di scegliere il migliore influencer per la vostra struttura ricettiva. intanto però prima di iniziare come sempre iscrivetevi al canale attivando le notifiche così da non perdere tutti i miei contenuti. Quindi dicevamo, parlavamo di queste e-mail, le e-mail ricevute, normalmente questo è stato il primo approccio che noi abbiamo con l'influenza, perché che cosa succede? Normalmente vediamo l'influenza e la Chiara Ferragni della situazione, quindi diciamo ok, non è una persona che va bene per le nostre tasche, non ce lo possiamo permettere magari una collaborazione con la Chiara Ferragni e quindi la cosa decade. Però effettivamente come vedremo nel corso di questo video è possibile anche per delle piccole realtà collaborare dell'influenza. L'importante è che questi lo siano per davvero, perché saper utilizzare i social e avere un tot di follower non fa di queste persone dell'influenza. Alla base di tutto ci sta comunque la comunicazione e il marketing, perché ricordatevi sempre sui social ci occupiamo di social media marketing. I social sono solamente il mezzo, ma il marketing sta alla base di tutto. Quindi questa cosa mi raccomando non ve la dovete mai scordare. Di conseguenza ne conviene che nel momento in cui voi andate a ricevere un'email del genere come quella che vi ho detto prima e fondamentalmente le persone fanno leva solamente sul numero di follower che loro hanno, beh a quel punto voi ve ne dovete scappare, ignoratele completamente queste persone oppure rispondete con un cortese no grazie. Perché se già loro si presentano in questo modo vuol dire che non hanno idea di quello che stanno facendo. I follower, beh i follower li possiamo comprare tutti quanti, ci sono un sacco di offerte. Io nei messaggi, nelle mie richieste di messaggi ricevo tantissime offerte per aumentare i follower. Un tempo erano 9,90, adesso pure loro hanno aumentato i prezzi, sono 19,90, vabbè pazienza. Ma capite bene che quel numeretto lì non serve a niente. Visto che voi mi seguite e state seguendo questo video, adesso vi svelo come cercare di capire se effettivamente quella persona fa il caso vostro. E partiamo per l'appunto dei follower. Ha tantissimi follower? Benissimo, andiamoli a controllare. Quindi che cosa succede? Che voi andrete a controllare questi follower e già dovete avere questi campanelli d'allarme. Beh ci sono un sacco di persone che seguono questo presunto influencer ma non hanno la foto del profilo, quindi sicuramente già quelli sono follower comprati oppure che hanno come nomi di profilo, nomi alfanumerici oppure sono tutti stanieri quando è un magari un'influenza che parla semplicemente italiano. Quindi molto evidente quei follower sono comprati. Ma adesso quando ti vendono i follower te li vendono anche italiani perché hanno creato quei profili. Quindi di conseguenza potreste trovare effettivamente degli account con una foto del profilo e anche un nuovo utente. A quel punto in questo magari non vedete conto. Quindi cosa fare? Cosa fare nel momento in cui dici ok ma qui invece non ho avuto questi campanelli d'allarme per quanto riguarda i follower. Bene in quel caso dobbiamo andare a guardare le interazioni. Loro pubblicizzano, perfetto, pubblicizzano i posti, fantastico, mettono un sacco di post, video, ok ottimo ma devo vedere quante interazioni c'è effettivamente con il loro post. Perché non badate solamente like. I like posso fare anch'io per voi una sponsorizzata da 5 euro, vi faccio prendere un bel po' di like, fantastico. Quelle lì sono vanity matrix. Non badate solamente ai like ma badate anche a quelle che sono le interazioni in termini di commenti. E le persone che commentano effettivamente ci sono? Perché nel momento in cui in quel caso ci troviamo davanti a un vero influencer, che ha un vero seguito, beh la gente è interessata effettivamente a quello che dice, commenta, interagisce con questa persona. Di conseguenza nel momento in cui lui propone o lei propongono qualcosa, sono effettivamente in grado di influenzare, in questo caso, le scelte di viaggio dei loro utenti. Quindi come dicevamo all'inizio di questo video, possiamo effettivamente collaborare con un influencer anche se sono comunque una realtà piccola? Ebbene sì, si può fare perché esistono anche i microinfluencer, non esistono solo i big con milioni di follower, con grandi seguiti che ovviamente ogni post, ogni contenuto che loro creano per voi se lo fanno pagare tantissimi soldi. Perché effettivamente hanno un gran seguito e i ritorni poi sugli investimenti sono veramente molto importanti. Voi invece potete collaborare con i microinfluencer, perché anche se magari hanno solo centomila follower, cinquantamila follower, ma sono follower reali, follower che fanno effettivamente parte di una nicchia in particolare e che fa a caso vostro bene, con la collaborazione con quell'influencer può essere veramente delle migliori. E quindi vedrete che poi il ritorno sull'investimento sarà anche interessante collaborando con una realtà un po' più piccola rispetto ai big. Ora però prima di chiamare il primo influencer che vi è venuto in mente per effettuare una collaborazione, per un attimo seguite i miei consigli. Consiglio numero uno, effettivamente rendetevi conto se quel influencer fa a caso vosso per quanto riguarda il brand, quindi la comunicazione. Perché magari si è molto forte nella sua nicchia, potesse avere un ritorno sull'investimento, però il suo tipo di collaborazione va in netto contrasto con la vostra. Quindi se voi avete uno stile, un brand molto più elegante e lì parliamo magari di uno street influencer, chiamiamolo così, ecco vi rendete conto che la cosa va proprio in contrasto e poi di conseguenza in quel caso non avreste nemmeno un influencer che parla alla nicchia di vostro interesse. Perché anche questo voi dovete vedere, sta parlando effettivamente al pubblico che a voi interessa, potrà essere anche molto bravo, potrà essere veramente un bravo influencer, ma se alla fine comunque si trova nel settore travel ma non parla la vostra nicchia, questo a noi non interessa. Secondo consiglio che vi voglio dare in merito è quello di fare un contratto. Il volevo sebbene non funziona più, nel momento in cui fate una collaborazione, il io ti faccio il post non basta, fatevi mettere per iscritto tutto quello che prevede la collaborazione e soprattutto mi hai fatto questo post, mi hai fatto queste stories, bene, ma poi lo ripubblichi, non lo ripubblichi? Come funziona? Perché voi dovete sapere quanto state pagando e cosa otterrete oggi e in futuro. Infine, terzo consiglio prima di scegliere un influencer è quello di guardare i vostri social. In che condizioni stanno i vostri social? Perché voi potrete fare collaborazioni con il miglior content creator, con i migliori influencer del mondo, ma se alla fine comunque non curate i vostri social, il vostro sito è ancora fermo al 2019, capite bene che avete un problema alla base. Quindi ancora prima di pensare, di pensare alla collaborazione con l'influencer, mettete mano alla vostra comunicazione online, fate una bella pulizia, fate un bel restyling e poi ripartendo potete pensare anche a una collaborazione del genere. Bene, spero che questo video vi sia stato di aiuto, fatemi sapere che cosa ne pensate nei commenti e se anche voi come me avete ricevuto o continuate a ricevere email da questi presunti influencer dalla quale in realtà noi dobbiamo scappare. Quindi prima di andar via non vi dimenticate di iscrivervi al canale attivando le notifiche, mentre se mi volete contattare trovate tutte le info qui in descrizione. Io vi aspetto nel prossimo video. Besos!